In questo video vediamo come realizzare un server BLE utilizzando ESP32 Questo oggetto andrà a pubblicare un servizio con un certo valore che andremo a leggere utilizzando un client, in particolare il nostro telefono Se non siete ancora iscritti al canale vi chiedo di farlo, a voi non costa nulla e mi date una mano a crescere Iniziamo subito Abbiamo visto come è strutturato il BLE, Bluetooth Low Energy Vedremo come realizzare un server BLE con ESP32 pubblicando un servizio Metteremo una scritta, il classico Hello World, qualcosa del genere Partiamo aprendo uno sketch vuoto Come prima cosa importiamo le librerie necessarie Utilizzando la scheda ESP32DevKitVersioneC Troviamo già tutto nel framework che abbiamo installato Quindi non è necessario aggiungere nulla Includiamo le librerie, abbiamo BLE device.h Poi abbiamo BLE util e server Copiamo, abbiamo utils e poi BLE server Ora inseriamo con delle define gli identificativi, gli UUID per il servizio e la caratteristica che vogliamo esporre Quindi creiamo un service, il servizio UUID e poi aggiungiamo l'UID della caratteristica Sono numeracci abbastanza lunghi, li vado a copiare Questi qua li potete anche generare in autonomia utilizzando un sito tipo UUID generator Questa è la caratteristica Ora ci spostiamo nel setup Qui se volete può far comodo inizializzare la seriale come sempre Quindi serial.begin 115.2 Scriviamo un messaggio per vedere che è partito C'era il punto println Scriviamo tipo BLE server Questo server pubblicherà una caratteristica, un valore fisso Server, mettiamo fix Creiamo il device BLE device Lo inizializziamo e gli assegniamo il nome con init Questo sarà il nome che poi vedremo esposto cercandolo col telefono Quindi esp32 BLE server Chiamiamolo così, magari gli mettiamo un trattino Creiamo il server BLE server Qui la chiamata init viene fatta col doppio puntino Il doppio puntino serve per specificare il namespace Visto che init è un metodo molto comune Qui stiamo dicendo vai a chiamare il metodo init del namespace di BLE device Probabilmente anche le altre classi importate hanno qualcosa del genere Allora andiamo a aggiungere e creare l'oggetto BLE server Mettiamo qua quindi BLE server Creiamo un puntatore E creiamo questo server Ora a questo server serve un servizio Quindi creeremo BLE service BLE service Lo creo come un puntatore per 100p service Questo me lo da il server Quindi p server Gli dico crea un servizio CREATE SERVICE E gli diamo l'UID da associare Creiamo poi anche la caratteristica La caratteristica anche questa la creiamo come un puntatore Quindi mettiamo asterisco P CARATTERISTIC Questo sarà il servizio a fornirmela Quindi P SERVICE Chiamo il servizio E dico CREATE CARATTERISTIC Copiamo il nome da qua CREATE CARATTERISTIC E gli diamo quanto necessario Allora gli daremo ovviamente il suo UID Che è questo E lo andiamo ad aggiungere qua E poi dobbiamo dirgli che proprietà ha e di che tipo sono Gli mettiamo Diciamo che le proprietà che ha è in lettura e scrittura Può essere letta e scritta Quindi aggiungeremo PROPERTY READ E WRITE Utilizzando il NAMESPACE CARATTERISTIC Quindi faremo così VLE CARATTERISTIC Due punti due punti Per specificare il NAMESPACE Abbiamo PROPERTY READ Poi gli metto un OR Perché stiamo impostando dei BIT Abbiamo PROPERTY WRITE Eccole qua impostate tutte e due Ok a questo punto possiamo scrivere qualcosa nella caratteristica Abbiamo questo puntatore Qui sotto scriveremo un valore fisso Quindi P CARATTERISTIC Faccio SET VALUE Imposto il valore Gli mettiamo LOBLE ESP32 Con un po' di punti esclamativi Speriamo poi di vederlo Ok abbiamo impostato il tutto Facciamo partire il servizio P SERVICE E gli diamo START In questo modo viene avviato Questo non basta perché per far sì che venga visto Dobbiamo attivare l'advertising In modo che il server possa essere trovato dagli altri dispositivi Quindi abbiamo un nuovo oggetto da creare BLE ADVERTISING Creo un puntatore Diciamo PA ADV Per farlo breve PA ADVERTISING Questo me lo dà il device Quindi chiamo BLE DEVICE Due punti due punti Anche qua con il namespace GET ADVERTISING Ho un puntatore Nell'advertising dico Fai vedere il servizio E per dire il servizio Devo dargli il service UID Quindi abbiamo PA ADV E qua impostiamo SET SERVICE UID SET SERVICE UID E gli diamo quindi L'UID che ci interessa Poi impostiamo qualche altra proprietà Quindi ne abbiamo una serie Una per dare Abbiamo SET SCAN RESPONSE Lo mettiamo a TRUE Per far sì che ci sia una risposta allo scan Poi ci sono per la compatibilità con gli iPhone Da impostare delle soglie C'è questo SET MIN PREFERRED 0x06 Infine abbiamo BLE DEVICE Due punti due punti START ADVERTISING E parte la segnalazione Quindi questo qui dovrebbe essere il codice Usando l'autocomplitto Ho commesso un errore Qui abbiamo ADSERVICE UID Quindi proviamo a compilare Caricare sulla scheda E poi cercheremo un modo per vedere Se il servizio è pubblicato Ok non ci sono errori Abbiamo l'Upload Non ci serve nessun hardware collegato Semplicemente la scheda Qui vediamo il telefono Per poter andare a cercare I dispositivi È un'applicazione che possa vedere i servizi server BLE Per esempio NRF Connect di Nordic Semiconductor Lo potete installare sul vostro telefono Abilitiamo il Bluetooth Abbiamo lo scanner Facciamo scan E ora ecco qua che compare il nostro ESP server Facciamo connect Una volta connesso Mi fa vedere i vari attributi Che vengono pubblicati Abbiamo un unknown service Se lo apriamo Vedete che c'è la caratteristica Per leggere il dato Abbiamo le due freccette Che vedete qui in basso Clicchiamo la freccetta verso il basso Per leggere Ed ecco qua Che arriva la scritta Ello BLE ESP Con i punti esclamativi Che abbiamo pubblicato Abbiamo concluso questo primo argomento Come vedete Denso di codice Classi particolari Anche non troppo digeribili Ovviamente le cose si complicheranno Se vogliamo realizzare applicazioni Che generano delle notifiche O si possono far trovare Per oggi è tutto Vi saluto Ci vediamo presto Ciao